Musica Elisa, come hai lavorato per rendere tua questa canzone così iconica nel film? Ma in realtà, onestamente mi sono un po' prestata a cercare di fare la cosa più giusta per il film non pensavo a me stessa, alla mia musica, pensavo come rendere la canzone giusta proprio nel contesto del film che secondo me era la cosa giusta da fare perché è una canzone del 1941 e secondo me era giusto non snaturarla, tenerla nella sua naturalezza insomma Grazie